In primo piano le ultime ore di vita del boss mafioso Matteo Messina Denaro, le cui condizioni ormai sarebbero disperate. Sono già stati infatti avviate le pratiche per la sepoltura. Dall'8 agosto si trova all'ospedale San Salvatore, passando a seconda delle necessità dalla cella riservata ai detenuti alla rianimazione. Guardato a vista dagli agenti, un medico e un infermiere che sono a disposizione 24 ore su 24, una malattia lunga tre anni che secondo quanto sostengono i medici ormai non gli lascia più speranze. Dopo l'arresto a Palermo il capo mafia di Castelvetrano, latitante per 30 anni, è stato portato nel supercarcere dell'Aquila dove è stato sottoposto alle cure per il cancro al colon scoperto a fine 2020. Matteo Messina Denaro ha voluto indicare in un testamento biologico le sue volontà specificando di non voler subire accanimento terapeutico, una disposizione precisa che obbliga i medici a idratarlo ma non a rianimarlo e a non alimentarlo.